Buongiorno, allora oggi altra esplorazione posto abbandonato, andremo a Consonno che è in provincia di Vecco ed è una città completamente abbandonata, si è abbandonata per una frana praticamente verificatasi nel 1977, sì dovrebbe essere, e quindi in seguito a questa frana la città è stata abbandonata anche perché comunque ci fu un abuso edilizio negli anni 60, quindi molte delle infrastrutture che hanno state costruite non si potevano costruire in determinati luoghi e quindi anche per quel motivo è stata completamente abbandonata. Oggi sarò con dei miei amici, ci vorrà un'ora circa per arrivare lì e niente, ci vediamo quando arriviamo. Allora siamo arrivati, ho eliminato il videorecchio perché pesava troppo, qui c'è il nostro primo uomo, il secondo è lì, il terzo è disperso su da qualche parte, chissà dove è finito e niente comunque sono arrivati qua con sonno, questa è la torre dove era sedito anche Human Safari e niente questa è la vista che abbiamo e poi andiamo a fare un giro anche dentro la città, vedrete alcuni video un po' bombati perché, aspetta che giro, alcuni video un po' bombati perché li farò con l'action camera mentre alcuni con il telefono, quindi cercherò di montarli in modo tale che non ci siano troppi stacchi fra uno e l'altro, comunque, salutale! Porca dia! Non è? Eh! Non lo manco! Ahahahah! E va che bello su! Bello in alto! Ecco qui siamo! Monbello 2.0 Sarà? Ah, mica dovevi andare in bagno! Prego! Proseguiamo con il giro! No! Sì, è stato... quasi di un parchetto! Borghi Parlanti, contributo della regione Lombardia! Stiamo proseguendo con il giro! Non è così abbandonata come pensavamo! È anche abbastanza ristrutturata, tra virgolette, in alcuni punti. Tipo la chiesa ci fanno qualche evento, qualche messa, una tantum. Che altro devo dire? Nulla! Allora, proseguiamo con l'esplorazione. Adesso siamo arrivati in una piazzola qua. Vediamo un po' come è messa. Scegliami un po'! Questo dovrebbe essere un baretto! E niente, siamo qui da un'ora. Ora proseguiamo il giro. E in offing, c'è un bel panorama. Si può venire tranquillamente. Diciamo che magari il manicomio è un po' più interessante da girare per i sotterranei. Andai! Vieni mi dietro! E niente, si prosegue il giro. Questo è il secondo piano. Piano intermedio. Ah, c'è il piano terra. Questo. Poi c'è il secondo. Poi c'è la torretta. Si. Qua nel secondo piano. I movimenti hanno un mosaico diverso. E un'ambientazione anche qua molto dell'astrofase. Quanto si vive all'hotello. Guarda. Quanto si vive all'hotello. Ma perché? Basta, adesso vai come i clown in giro. Niente, adesso abbiamo fatto il secondo piano. Ma andiamo a fare il terzo. E... I cappelli che porca storia. C'è dei cappelli dell'Amazon. E niente. Poi abbiamo praticamente finito. Non è che c'era molto da vedere. Terzo piano. L'edificio commerciale. Ciao uomo. Ciao. L'unione. Fa la forza. Abbiamo quasi finito. Poi l'ultimo piano, quello che abbiamo fatto all'inizio. C'è una bella luce adesso con il tramonto. Tutto più caratteristico. Ci sta da girare. Ci sono disegni inquietanti. Che gente che bestemmia. Lì giù dovrebbe esserci Airo. Non si vede tanto bene ma... Facciamo un giretto. Per vedere com'è il panorama. Guardate che figata qua. La stradina. Gli stagni. Lì in fondo dovrebbe esserci. Il barretto discoteca. Qua sotto di noi ci sono i vari appartamenti che abbiamo visitato prima. Ciao ragazzi. E niente. L'esplorazione è finita. Andiamo solo in faccia. Non vediamo un cazzo. È stata interessante. Fabio, quanti like dobbiamo chiedere? Come? Quanti like dobbiamo chiedere? 100.000 199.000 30.000 30.000 diviso 1.000 like. Per il prossimo esplorazione. Vi salutiamo. Ciao ragazzoni. Ciao. Sono in ombra ma... Ciao. Ehi. Ciao. Ehi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a Vigno. Perché poi dopo ci offre una cena a lui. Esatto. Con i soldi della partner. Quindi non mangeremo un cazzo. Pox Malibu through my earbuds. Picking at my...